Musica Musica Finalmente ci siamo, è il 29 marzo, 10 anni fra l'Altenax. Stasera saremo qui a suonare insieme a DOP in questa serata che ci preme veramente perché siamo nel nostro locale e nella nostra città dove siamo cresciuti. Ci vediamo stasera al Tenax, il mio frattese 46, per i 10 anni di fratola. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie veramente a tutti. Grazie a tutti. Una serata fantastica per scordiciare questi 10 anni di musica. Ci vediamo il prossimo anno. Grazie a tutti.